Debiti per una trentina di milioni e un management costretto ad operare tra mille difficoltà. Eppure dal consorzio di bonifica del Basso Molise dipende in larga parte la produzione di tante e tantissime aziende della zona a più forte vocazione agricola della regione. La Coldiretti è tornata a lanciare un appello alla regione affinché si trovi una soluzione all'esposizione finanziaria dell'ente. Con circa 30 milioni di debiti e in assenza di un piano di risanamento ha dichiarato il direttore di Coldiretti Agnello Ascolese appare difficile che il consorzio possa tornare a funzionare a pieno regime in tempi brevi. Fra le competenze dell'ente di bonifica la più importante è quella della distribuzione dell'acqua in prevalenza per l'irrigazione dei campi poi però ci sono la tutela del territorio rurale e interventi a difesa del suolo la pulizia e la manutenzione dei canali irrigui. Attività fondamentali ribadiscono dalla Coldiretti non solo per le attività aziendali ma anche per la popolazione che vive nei territori di competenza del consorzio. Più volte ha sottolineato Ascolese è stato chiesto il piano di risanamento dell'ente ma non è mai stato elaborato. Per troppo tempo ha aggiunto il vicepresidente Spagnoletti la regione non ha prestato la giusta attenzione ai problemi dei due consorsi di bonifica di Termoli e di Larino oggi riuniti nell'ente del Basso Molise e questo si è tradotto in un disservizio per le imprese agricole che specie in questo periodo necessitano di acqua per garantire la produzione di molte colture a pieno campo. Per queste ragioni la Coldiretti è tornata ad appellarsi alla regione affinché venga al più presto realizzato un piano di risanamento del debito che di fatto paralizza l'attività consortile in modo tale che il nuovo consorzio di bonifica possa dotarsi presto di una dirigenza e ricominciare ad operare in maniera efficiente a favore delle aziende agricole e del territorio.